Buongiorno a tutte. Io credo che le relazioni sono tra i doni più importanti che abbiamo come esseri umani e quindi credo che quando queste vengono meno si creano dei traumi, delle difficoltà a livello interiore, per cui attivarsi in fasce così basse dal punto di vista dell'età, quindi nell'infanzia, credo che sia molto importante perché diciamo sempre che prevenire è meglio che curare, quindi prima si comincia, prima si evita di arrivare a situazioni poi più difficili e in ogni caso, magari nel caso in cui non sia arrivati con la prevenzione, si partirà con la cura perché sì, è meglio prevenire che curare, però ci saranno casi in cui forse questo progetto servirà a curare e quindi meglio che parta. La fiaba mi è piaciuta tanto sia perché ovviamente per bambini di questa età non poteva che essere il veicolo migliore ma anche per voi. Grazie!